Ma secondo voi la Honda Rebel è in grado di affrontare un tour europeo? E come se la caverà? Scopriamolo insieme! Finalmente ci siamo! È tutto pronto! Manca ancora qualche piccolo dettaglio, ma ci siamo! Infatti io tra qualche settimana partirò per un tour europeo in sella alla mia Honda Rebel. Non vi posso ancora svelare tutti i particolari come non vi posso neanche svelare con chi partirò e quali tappe raggiungeremo in sella alle nostre moto. Posso però solo dirvi che io sono stato selezionato e quindi contattato da un famosissimo motovlogger mitico, sono stra eccitato, il quale mi ha dato la possibilità di rientrare in una cerchia di persone selezionate, appunto, per partecipare a questa favolosa esperienza europea. E quindi, dal momento che poi dovrò pubblicare i video di questo favoloso viaggio, ho pensato ma perché non fare anche un video dedicato alla preparazione della moto? Quindi, adesso, vi faccio vedere cosa ho pensato per equipaggiare la moto. Allora, il primo zaino che verrà con me in questa avventura è questo zaino qua. Ta-da! Zaino militare. Il suo vero nome è Zaino Tattico ed è un vecchio ricordo della mia vecchia vita. Questo zaino qua, io attualmente lo sto utilizzando sulla moto perché mi piace veramente tanto e qualche tempo fa ho fatto realizzare una struttura tutta artigianale appositamente per questo zaino per attaccarlo perché ha queste cinghie per essere attaccato. Il supporto l'ho fatto realizzare quindi mi fa anche da schienalino per il secondo passeggero. Questo zaino qui sembra piccolo ma in realtà contiene molte cose. La particolarità di questo zaino è che nell'evenienza può diventare anche uno zaino normale perché ci sono le sue spalline come proprio un vero zaino. Qui dentro io ho deciso di inserire tutti quegli oggetti che potrebbero servirmi in tempi brevi. Quindi io qui dentro metterò il kit antipioggia metterò il marsupio con tutti i documenti, soldi, portafoglio, tutto quanto altri oggetti vari e poi spero di non usarlo metterò anche il kit di pronto soccorso. L'altro zaino invece che parteciperà con me in questa avventura è questo qui. Zaino classico da montagna, stile alpino. Questo zaino sarà il mio passeggero, sarà attaccato anche lui allo schienalino, alla struttura dello schienalino che ho fatto realizzare. e qui dentro ci saranno tutti i vestiti che mi serviranno durante la mia permanenza in queste tappe europee. Resta da capire adesso se questo zaino insieme a questo zaino possano viaggiare in questo modo. Perché l'idea c'è, è stampata qui dentro. Bisogna capire se però non li perdo per strada, dato che dovrò fare parecchi e parecchi chilometri. Per togliermi questa curiosità non resta nient'altro che fare di andare in garage, provare a trovare la soluzione adatta e poi mostrarvi il tutto. Perché prima di farvi vedere cosa intenzione di fare e poi finisce che un puttanai che non va bene, quindi è inutile, io prima la realizzo. Prova a metterla in pratica. E poi, se dovesse andare bene, vi farò vedere. Madonna mia, la mia idea ha funzionato. Ho dovuto fare dei piccoli cambiamenti in corso d'opera per una questione di adattabilità, ma ha funzionato. Ho deciso di non mostrarvi nulla, così almeno vi lascio la curiosità per i prossimi video. Vi comunico che verrà creata appositamente una playlist per questa mia esperienza europea e non vedo l'ora di partire. Questa per me sarà una bella scommessa, così almeno collaudo la Honda CMX 500 Rebel su un viaggio lunghissimo. Per sapere come andrà a finire, non vi resta nient'altro che iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, attivare la campanellina per ricevere sempre tutte le notifiche e non perdervi i prossimi video. Io adesso mi assenterò per un po', perché andrò in ferie, poi tornerò e poi lo vedremo insieme. Spero che il video vi sia piaciuto nel suo piccolo. Se così fosse lasciate un mi piace e o un commento. Vi ricordo che mi trovate sempre su Facebook e su Instagram e dove troverete le cazzate, insomma, quando le faccio o le foto sempre quando le faccio durante il mio giorno. Per oggi è tutto. Noi ci vediamo, se lo vorrete, ad un prossimo video. Ciao belli! Ciao 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 ciao!